Questa mattina uno di voi mi ha mandato un video dove questo video diceva che attraverso il tuo nome e cognome c'è scritto il tuo destino. Questo video parlava di numerologia. Allora l'ho ascoltato bene perché c'erano migliaia di persone che lo avevano approvato. Ho ascoltato tante di quelle cose non vere veramente da far rabbrividire, nodi karmici, di tutto e di più. Non è assolutamente così. Quello che io voglio informare è che oggigiorno la numerologia sta prendendo piede perché si è capito che è interessa, perché si è capito che è una cosa vera, ma il problema è che le persone non hanno conoscenza, le persone non hanno sapere. Innanzitutto un numerologo non è che spara minchiate così ma le tiene un po' per sé perché sa che la conoscenza comunque è un dono. Detto questo ovviamente io per quello che riguarda come numerologia ho unito la numerologia che mi è stata insegnata dall'indiano John e la sto studiando dal 1989, ho unito la numerologia a una cosa fondamentale che sono le metafore, la simbologia, la ciclicità e la teoria del precedente. Pertanto la matematica dialoga attraverso i numeri, ma noi comunque abbiamo un DNA che conosce molto bene alla simbologia, la vita comunque è tutta una metafora e siamo il risultato anche delle risposte che noi diamo agli eventi della nostra vita. Quindi le risposte che magari noi stessi possiamo dare anche a un fallimento? Sì. A un incidente? Sì. A una cosa a volte spiacevole? Sì. Allora che cos'è il nome e cognome? Il nome e cognome rappresenta il destino? Sì, ma questo destino va unito al giorno di nascita e va unito al karma. Il giorno di nascita rappresenta il carattere. Il karma si calcola facendo giorno più mese più anno. In totale viene fuori totalmente un numero. Quel numero poi va unito e uscirà solamente un numero. Ad esempio il numero 4, che vuol dire che quella persona è un messaggero, vuol dire che quella persona comunque è vicina all'arte. Ma se quel 4 è combinato male a dei numeri antagonisti, quella persona può avere problemi a livello motorio, può avere problemi a livello autoimmune e tantissime cose. Ecco che la numerologia è una scienza. Ecco che la numerologia potrebbe essere uno strumento potentissimo per la medicina. Io ho cambiato, svoltato la vita a centinaia di persone in un modo pazzesco. Perché? Che cosa ho fatto? Ho unito la numerologia alla simbologia di quella persona, alla metafora della vita di quella persona, ok? E alla teoria del precedente, il che ho capito i comportamenti, ho trasmutato il tutto il positivo, ho fatto cambiare delle leve e poi ho aiutato quella persona magari andare da quel medico piuttosto da quel medico, che il medico logicamente in un processo di guarigione è sicuramente fondamentale. Allora tutto questo dialoga con il tuo DNA, dialoga con il nostro DNA. Questa è una cosa meravigliosa, questa è una cosa saggia. Ma oggi vogliono far diventare la numerologia come l'astrologia. L'astrologia ad esempio è una cosa molto bella, molto saggia, molto seria, ma è fatta di nove caselle. E invece oggi quanti giornali del cazzo ci sono per l'astrologia. L'hanno rovinata. Perché? Perché c'è il business. Allora io dico cercate di avvicinarvi alle persone che sanno. E com'è che lo fate a capire se uno sa? In base ai risultati che fa. Con tutto rispetto a me hanno parlato a New York, in Inghilterra, a Parigi, in Italia e ho fatto dei risultati pazzeschi. Io quando qualcuno ti dice, gli dici scusami qual è il tuo curriculum, quali sono i tuoi articoli, quali sono i tuoi successi. Ma non uno che magari si mettono d'accordo, non può essere centinaia. Allora io dico, e sono molto obiettivo e anche sincero, stai distante da chi parla di numerologia e poi magari ti dice facciamo un appuntamento e ti insegno. Ma quello ti insegno di che? Fammi vedere prima chi sei, fammi vedere quello che porti. Questo è un dato molto molto importante. Nel 1989 c'erano i Maraischi in Olanda che facevano numerologia ad alto livello. Linjarum John mi spiegava determinate cose. Io che cos'è che ho fatto? Ho cercato di capire la numerologia associandolo a una cosa che è molto preziosa, che è la simbologia e sono le metafore, perché tutto è simbolico, ok? E il nostro cervello arcaico dialoga appunto con l'associazione anche, perché noi siamo associativi. Pertanto se tu stai mangiando e ricevi una bellissima notizia, ricevi delle bellissime cose, il tuo stato emozionale logicamente è molto positivo. Pertanto ogni volta che mangi quel cibo vai su di tono emozionale. Ecco che la numerologia, ecco che la matematica, dialoga anche con il subinconscio, cosa che dovrebbero impararla tutti i medici, a modo più assoluto. È potentissimo perché dialoga con i chakra. Allora quello che io ti voglio dire è di avvicinarti a questa conoscenza, ma soprattutto di essere molto razionale, perché ricordati di una cosa, la numerologia, la simbologia, le metafore sono razionali, logico e congruente. Leonardo da Vinci diceva che una cosa può essere folle, può essere irrazionale, ma poi bisogna portarla ad un piano razionale. Ed è questo che fa la conoscenza. Quindi non qualcuno che ti dice succederà questo. No, no, me lo devi mettere per il critto. Questo è un dato di fatto, ok? Vi do una buona giornata, seguitemi, ma soprattutto andiamo verso i risultati. E sentiti importante. Ti dico una cosa, se tu ti senti importante, se tu ti dà autostima, se tu ti circondi di persone positive, se tu mangi bene, se tu fai tante buone azioni, porterai la tua energia a un livello molto alto, che se anche in quel momento stai avendo una numerologia un po' sofisticata nella tua vita, sei, metaforicamente parlando, sei salvo. Perché? Perché sei in cima, sei nell'attico, pertanto se arriva energia negativa non la senti. Quindi una persona grande, una persona che si circonda di persone grandi, di persone ambiziose, di persone che vivono nell'abbondanza e nella gratitudine. Questo è molto molto importante, non sottovalutiamo, perché tu puoi essere anche molto forte, molto bravo, ma se sei circondato o sei pieno di tossine o ti invadi in altre situazioni, ecco che altra energia andrà a inquinare la tua, anche se magari può essere meravigliosamente bella, ok? E allora lì dobbiamo cercare di ascoltarci, dobbiamo entrare nella nostra consapevolezza, nella nostra centratura e in tutto quanto questo. Ti mando un abbraccio, commenta questo video, condividi questo video e sentiamoci forti. Ciao!